Questa mattina i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro hanno eseguito nelle province di Catanzaro e Vivo Valencia le misure cautelari personali nei confronti di una dirigente della regione Calabria, già responsabile anti-corruzione del citato ente, e di un'imprenditrice del settore turistico attiva nel comune di Ricadi, in provincia di Vivo Valencia, entrambe indagate per corruzione. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, il dottor Paolo Mariotti, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, con i sostituti procuratori, la dottoressa Graziella Viscomi e la dottoressa Giulia Tramonti, coordinati dal procuratore aggiunto il dottor Vincenzo Capomolla e dal procuratore della Repubblica il dottor Nicola Gratteri. In particolare, all'esito delle attività investigative nell'ambito dell'operazione denominata E Dovere, sono state raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, Maria Gabriella Rizzo, di 57 anni, dirigente della regione Calabria in servizio presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo della regione Calabria, e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro all'epoca dei fatti, anche responsabile regionale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Laura Miceli, 67 anni, imprenditrice del settore turistico del litorale Vibonese, le attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e delegate alla Guardia di Finanza, condotte anche con l'ausilio di articolate indagini tecniche, hanno consentito di riscontrare come la dirigente regionale comunicava all'imprenditrice e ricadesse informazioni non ancora divulgate, riferite a bandi non pubblicati, e forniva alla stessa anche attività consulenziali.